buongiorno a tutti stiamo tornando o siamo tornati benvenuti a questa puntata pilota dove presenteremo le novità della nuova stagione di video sul canale di italygnum quest'anno ci saranno appunto delle novità principalmente per quanto riguarda il taglio dei video vi porteremo di più in giro per l'azienda e non solo vi faremo vedere nuovi spazi nuovi luoghi avremo dei video in trasferta e cercheremo di creare qualcosa di più dinamico rispetto a quanto fatto in passato sostanzialmente a chi ci rivolgiamo con questi video beh considerata l'ampiezza della platea di persone che sono interessate a questo genere di prodotti e di argomenti su più livelli diciamo che ne avremo un po per tutti ci saranno dei video dedicati principalmente al consumatore finale saranno video più generici con informazioni più applicative e diciamo dal taglio meno tecnico e ci saranno dei video rivolti a una platea professionale quindi sia chi si occupa della realizzazione dei prodotti falegnani aziende o quant'altro che dedicati ad architetti o interior designer che si occupano della fase di progettazione di che cosa parleremo in questa nuova stagione beh il punto cardine come è stato per la stagione precedente saranno le interviste e le collaborazioni con professionisti del settore professionalità varie tratteremo sia aspetti tecnici che aspetti di mercato e di novità di quanto sta succedendo in questo periodo diciamo che le novità non mancano parleremo di prodotti presenteremo quanto c'è di nuovo sia da un punto di vista di presentazione del prodotto vero e proprio che dell'eventuale applicabilità parleremo sicuramente di certificazioni di prodotto argomento sempre in continua evoluzione del quale la nostra azienda ha sempre cercato di dare il giusto spazio e il giusto supporto formativo ed informativo per quanto possibile a chi collabora con noi ci saranno dei nuovi video delle video pillole più ridotti dal punto di vista del minotaggio e dedicati a domande specifiche ad argomenti molto circoscritti che cercheremo di trattare in breve tempo e andando dritti al punto ecco per concludere non ci resta che invitarvi ad iscrivervi al nostro canale se ritenete che i nostri contenuti possono essere interessanti o possano essere utili anche per altre persone l'iscrizione è il modo giusto perché ci dà appunto la possibilità di continuare in quello che stiamo facendo nel proporre sempre argomenti nuovi e interessanti e sempre più attuali e questo darebbe la possibilità chiaramente ad altre persone di venire a conoscenza dei contenuti che stiamo proponendo come fare per iscriversi beh basta entrare nel canale youtube di talignum oppure in uno qualsiasi dei nostri video cliccare sul pulsante rosso iscriviti dopodiché raccomandiamo sempre di cliccare sulla campanellina perché è l'unico modo per ricevere in tempo reale gli aggiornamenti e restare sempre appunto aggiornati su quello che viene proposto detto questo vi salutiamo vi diamo l'appuntamento al prossimo video